Ciao a tutti, mi chiamo Roberto Reani e sono il fondatore della Reani Guitars. Ci troviamo a Tavernerio, presso il mio laboratorio, dove costruisco e riparo strumenti musicali a corde, chitarre e bassi elettrici ed acustici. La passione per la musica mi ha portato da ragazzo ad avvicinarmi a questo bellissimo mondo, dove da musicista ho incominciato a modificare prima i miei strumenti e poi modificare quelli degli amici. Fortunatamente sono riuscito a trasformare la mia passione nel lavoro quotidiano che faccio oramai da 11 anni. Organizzo anche dei corsi per cercare di trasmettere la mia passione, più che altro per aiutare il musicista nella costruzione dello strumento che ha sempre avuto in testa e non ha mai avuto il coraggio di cominciare a costruire. Per qualsiasi curiosità vi aspetto a Tavernerio nel mio laboratorio, al massimo ci prendiamo un caffè. Ciao! Grazie per la visione!